Salve, con questo nuovo video tutorial dimostro quanto è semplice poter caricare un video su una pagina che è costruita con Builderall, appartenente a un blog, a un sito internet, a un funnel di vendita, poco importo quindi voglio poter caricare un video in maniera che il visitatore non possa cliccare in qualsiasi punto del video e magari andare a finire la sorgente, che può essere YouTube o qualsiasi cosa voglio che il visitatore veda questo video, rimanga incollato alla pagina, la pagina costruita con Builderall come lo stesso video e in maniera che non possa andare altrove, tanto per capirsi in anteprima faccio vedere che cosa intendo allora ora carica il video, logicamente il visitatore può cliccare qui, vedere il video, ok, fermarlo in ogni momento ci mancherebbe ingrandirlo, però non può cliccare altrove per andare alla sorgente su YouTube o via dicendo questo è molto utile perché, perché non vogliamo ad esempio il visitatore si distraga quindi non vogliamo che magari vada a finire su YouTube e che poi perde questa pagina, ok, che a me mi serviva per esempio qui lui mette dati, nome, cognome, indirizzo mail per diventare un lerdo, ok quindi non voglio che esca dal video, che vada alla sorgente il video stesso quindi per fare ciò si utilizza uno strumento molto importante è una funzione particolare dello strumento software webinar quindi si va su webinar, quindi se uno non l'ha trovato, non ha mai scaricato, sorry se lo scarica poi dopo che accedi, una volta che ha già creato su accedi, questa è la realtà si va a cliccare su nuovo webinar, ok, quindi si va a impostare un nuovo webinar qui si mette un nome, io metto la testa 2019 poi di solito nella descrizione, per il mio conveniente, ctrl c lo metto uguale, però insomma, la propria descrizione, dopo tanto è quello che viene fuori visibile, per ricordarsi cosa ho fatto creo webinar, ok clicco su creo webinar, perfetto allora questi dati qui, per lo scopo di questo qui, si lascia tutto stare così com'è e si va direttamente quindi a contenuto, ok contenuto, allora il contenuto, cioè da dove dobbiamo andare per nel video può essere appunto un video comunque che abbiamo caricato precedentemente su YouTube può essere caricato dal PC, ok quindi se fosse su YouTube, qui basta mettere il link YouTube è di una semplicità unica se invece l'abbiamo messo e scaricato ovviamente sul PC, lo faccio vedere che questo è passato un pochino più lungo ma semplici, carica video da computer, ok qui scegli file, mi sa, mi si appare la casellina scegli file, mi rimanda al PC vado su, purtroppo in un video qualsiasi mi si apre, mi darò perché vabbè ho messo di direttore un fault, ecco a le fa, vede che succede passo 1 di 2, ok questa velocità dipende logicamente se c'è una connessione valida di quanto riguarda internet, il tuo internet, quindi qui ora carica lo faccio vedere in diretta così magari un po' dipende anche da vediamo un po' di solito è veloce ma voglio far vedere così almeno uno dice, ci vuole un po' di tempo, si e ora fa, lo codifica ok, lo rende un codice quindi questo passaggio ci può volere qualche secondo, eh il risultato ottenuto è questo quindi carica il video, uno lo può anche provare clicca qua, toglie qui mette l'audio e qui parte, ok? questo è il risultato ottenuto una volta che l'ha caricato basta cliccare qua lui lo salva in automatico, ok? e mi vado a cercare il test, ok? eccolo qua test 2019 clicco a questo punto su cosa? clicco su questa casellina che è per i codici questi codici, ok? dove le mettiamo? allora io vado nel costruttore, ok? dove voglio che venga caricato questo video e vado a cercare innanzitutto qui dove c'è il più cerco applicazioni mi vado a cercare applicazioni perfetto, ci clicco sopra e vado a cercare webinar clicco sopra qui così tasto sinistro e mi appare appunto questa parte, lo spazio dove andrà a finire il video poi tasto destro nel mouse modificare, vedi webinar, configurazione così ti rendi conto, modificare e qui metti l'ID l'ID che si è detto questo lo scrivo qua e la parola segreta il codice segreto, sorry lo metto qua una volta confermare il risultato ottenuto ora lo cancello, ecco questo, ok? molto probabilmente non viene così bello come è di primo acchito, ok? per capirci vediamo un po' facciamo così, tasto A modificare no, dovrebbe essere di tale ok, larghezza ok, potrebbe venire così, no? faccio capire allora, a questo punto la cosa da fare è spostarlo lo mettiamo nel mezzo poi la scelta è la scelta è quella di mettere larghezza 100 perché prende in pratica tutto lo schermo, ok? ed... centrare, però in questo caso ok, faccio, si ah vabbè, faccio ora mi ha dato un tweet ma perché... ok, perché l'avevo già fatto in passato comunque metto la larghezza 100 e me lo trovo così lo sposto dove voglio poi logicamente dobbiamo togliere la parte nera quindi questa si va e si lascia logicamente un pezzettino cioè dove finisce proprio il filmato, no? qui sotto così, perfetto poi questo qui che scorre non mi piace assolutamente quindi io di solito faccio così lo allargo lo faccio uscire questa parte qui dallo schermo ok, faccio un trucco perfetto ok, così, si ok, allora faccio per che vi allarga ok, perfetto questo è il discorso ok quindi abbiamo tolto la parte scorrebole che era bruttissima ok mettiamo così ripeto che eh ho delineato in pratica lo schermo ok poi posso allargarlo posso fare quello che voglio però l'importante ecco ricordarsi di togliere la parte nera e metterlo ops così ok una volta messo così è a posto e poi logicamente vado a salvare tutto qua molto semplice però una cosa che volevo far vedere è che se vado in eccolo qua perfetto poi deve essere perfettamente visibile anche da eh iphone ok quindi ora qui è perfetto perché l'ho fatto io ma se fosse così magari ti apparirà una schifezza o si ideme quindi una volta sai che è lavorato su pc va sempre su smartphone e può essere così ecco stesso discorso lo prendi così se fosse stato anche così ok togli il nero non grandisci ok devi sempre agire su questi qui eh ricordiamocelo sempre ok lo metti qui ad esempio è troppo piccolo fai così poi questa parte qui deve uscire come ho fatto prima una volta ecco ecco qui c'è il giro sì il nero ecco la parte nera oh perfetto ora ci siamo ok questo fammi pensare questa parte qui che ok voglio essere sicuro sì così perfetto in maniera che questa parte qui scorrevole sia fuori no perché è bruttissima a questo punto è fatta è a posto qui è a posto qua ok vediamo un po' lo carica sì perfetto clicco sul salvo e sono a posto e il risultato ottenuto come dicevo prima anteprima eh questo qua perfetto poi l'ultima cosa che me lo stavo per dimenticare nel settaggio nel settaggio che è questo uno non vuole settarlo ecco l'unica cosa che devi fare come ho detto devi solo caricarlo caricato non lo carichi lasci parte tutte le cose quello che ti ho fatto avere fino adesso ma sorry qui chat e disabilita la chat ok se vuoi che ci appai la possibilità di chattare sotto il video bene ma di solito non serve per il nostro caso disabilita ok e poi di nuovo esci qui qua lo salvi ok lo salvi e siamo a posto ok ok ok